Cioè praticamente muoversi a New York è come ogni angolo ti fermi e dici ah ma qua, ah ma cazzo qua, ah ma qui, ah ma lì Cioè è sempre la destra in alto Quante volte l'avremmo visto sto coso in un film In Camelot Squadra Emergenza Quante volte, quante volte sono passati su questa via E prima sono passati in un parchetto dove ricordo perfettamente che c'era Proprio una puntata che andavano a raccoltare qualcuno Il Central Park è bellissimo Camelot Squadra Emergenza è bellissimo, fine anni 90 Madonna, questi camion enormi Ci sono le macchine normali e poi i camion enormi Ci sono un sacco di luci laggiù I famosi tombini fumanti che è più che un tombino questo è qualcos'altro Poi ci sono i cazzo di... aspetta eh, mi interrompo questo